Il tuo consulente agrometeo ti dà il benvenuto su Agro Notizie. Il tempo è previsto per questo fine settimana. Ebbene, sarà un fine settimana fresco e temporalesco al centro-nord, caldo e secco invece sul meridione. Temperature massime inferiori a 25 gradi al centro-nord, sia venerdì, sabato e domenica, invece temperature massime tra 30 e 32 gradi sulle regioni meridionali, perché qui sarà ancora leggermente presente l'anticiclone nord-africano. Per quanto riguarda i fenomeni, come potete vedere, venerdì ancora avremo rovesci e temporali su gran parte del nord Toscana e Marche, sabato ancora rovesci e temporali su gran parte del centro-nord, tranne le regioni di nord-ovest, domenica ancora rovesci e temporali, per lo più sulle regioni centrali. Bene, termino qui, un corso ancora da Maria Giudiaci, dal pulsante sottostante puoi visualizzare le previsioni di casa tua.